Avranno un nome e un funerale i due bimbi trovati sepolti nel giardino della villetta di Traversetolo. Una questione burocratica che mai come in questo caso restituisce la drammaticità della vicenda dei due figlioletti di Chiara, nati e morti a 15 mesi di distanza l'uno dall'altro. La procura di Parma, che coordina le indagini che hanno portato all'arresto della 21enne, ha pronto un fascicolo da inviare al comune di Traversetolo per dare il via all'itere della registrazione dell'anagrafe. Il passo seguente sarà la scelta dei nomi e poi si potrà procedere alla cerimonia funebre. A questo proposito Samuel, l'ex fidanzato di Chiara, nelle scorse ore ha espresso il desiderio di poter riconoscere e dare un ultimo saluto a quelli che gli inquirenti hanno stabilito siano figli suoi. Il giovane, che ha parlato attraverso il suo legale Monica Moschioni, si è detto completamente frastornato da una situazione che non ha ancora realizzato, di sentirsi come in un film dell'orrore e di non riconoscere più la sua ex ragazza. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire in particolare se anche il primo bambino, nato a maggio 2023 e di cui due settimane fa sono stati trovati solo pochi resti, si è avvenuto alla luce vivo come il secondo, deceduto per una forte emoragia causata dal taglio del cordone umbilicale. Un particolare che potrebbe aggravare la posizione di Chiara, ora indagata per occultamento dei cadavri dei due figli e omicidio premeditato per uno. Intanto giovedì è previsto l'interrogatorio di garanzia della 21enne. Difesa dall'avvocato Nicola Tria, l'ex babysitter potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.